Danilo, buon pomeriggio. Sono passati solo quattro giorni dall'inizio del ritiro, però ti chiedo subito le tue prime impressioni. Va bene, le prime impressioni sono buone. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. Stiamo lavorando sia fisicamente che tatticamente. Come sapete il mister è uno che a livello tattico è un mister esigente. Stiamo lavorando su quello. Ci sono tanti giovani aggregati, quindi cerchiamo di dargli una mano. I primi giorni stanno andando molto bene. Sono passati dieci anni dal tuo primo ritiro qui a Toronzo di Cadore. Ti senti ora nel momento in cui sei maggiormente centrale all'interno del progetto Lazio? Sicuramente. Non pensavo fossero passati così tanti anni, però sicuramente è stato un percorso lungo e speravo che possa durare ancora parecchi anni. Sicuramente la prima volta che sovrano qua ero un ragazzo come ci sono adesso tanti giovani della prima era. Adesso sono un po' più cresciuto, quindi cerco di fare sempre il massimo e cerco di dare una mano a tutti questi ragazzi che sono qua. Proseguiamo con le domande. Per cortesia, nome e testata. Ciao Danilo, Carlo Roscito, alasio.it, Corriere dello Sport. Ti chiedo, fronte e mercato, è andato via Milinkovic, cosa perde Lazio e cosa guadagna anche Danilo dal punto di vista personale? Parlo di emozioni nel diventare vice capitano, perché poi lo sarei a tutti gli effetti nella prossima stagione. Guarda, sicuramente personalmente al di là di questa cosa del capitano, vice capitano, sicuramente Danilo non è che guadagna tanto. Sicuramente la Lazio perde un giocatore importante, perde un giocatore che nelle ultime otto stagioni ha fatto numeri incredibili e penso che questo gli va dato atto. Va dato atto a un giocatore che non ha mai detto una parola fuori posto, che ha sempre dato il massimo per questa maglia e questo gli va riconosciuto. E gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Sul fronte e mercato è normale che non sono io qui a dover dire quello che bisogna fare. Sicuramente, come ho detto, si perde un giocatore importante e penso che sappiamo bene che in qualche modo bisogna dare un segnale, una spinta. perché sappiamo che dobbiamo affrontare competizioni importanti, sappiamo che c'è il nuovo formato della Supercoppa, quindi saranno altre due partite in più. Sarà una stagione complicata, quindi sicuramente penso che il Presidente sta lavorando per darci una mano. Poi ti volevo chiedere, sempre relativamente al mercato, si parla anche dell'arrivo di un altro regista, però tu sei un po' abituato a queste voci. L'anno scorso arrivò Marco Santonio, sei rimasto ridolare due anni fa la concorrenza con Lucas Leiva. Ecco, cosa ti senti di dire? Perché poi ogni anno vieni quasi messo in discussione, però poi il campo parla sempre a tuo favore. No, ma io penso che... Io sono un giocatore che pensa che la concorrenza faccia bene, deve essere così. Sì, come ho detto, affrontiamo competizioni importanti, sappiamo che già l'Europa League portava via tante energie, anche per via dei viaggi. La Champions, per via delle partite più complicate e per la tensione che ci sarà, ne porterà via ancora di più. Quindi la concorrenza fa parte. Poi io penso che questa deve essere una squadra forte e devono venire i giocatori forti, a prescindere dal ruolo. Se arriverà un altro regista, ben venga. Siamo qui per fare il bene della Lazio, non siamo qui per obiettivi personali. È normale che tutti vogliono giocare, io compreso. Però, appunto, ripeto, siamo in una grande squadra, ci deve essere una concorrenza genuina che possa fare bene alla squadra. Buonasera, Nicola Berardino, Gazzetta dello Sport. Due domande. Dopo il secondo posto, come ci si può migliorare, guardando anche la Champions, questo come squadra? Dal punto di vista personale, hai abbandonato il sogno della Nazionale? Beh, guarda, sulla domanda del secondo posto, migliorarlo vorrebbe dire fare un qualcosa di incredibile. È normale che quando si conclude una stagione al secondo posto e pensi di migliorarlo, insomma, è un aspetto bello, è stimolante. Ci pensate? Sì, nel senso che penso che poi il campo decide, io penso che l'anno scorso di questi tempi nessuno dava il Napoli favorito, tantomeno noi forse arrivare dietro di loro, quindi vediamo come andrà la stagione. Sicuramente l'inizio, come abbiamo visto dai calendari, è duro, ma tanto prima o poi li dobbiamo affrontare tutti. Per quanto riguarda la Nazionale, non sono io che posso fare le scelte. Io sono sempre stato uno che per me la Nazionale, sai, sogno da bambino, è ovvio, tutti iniziano magari questo percorso sognando di arrivare in Nazionale. Ci sono stato poco, di questo me ne dispiace, non so, magari sicuramente anche in parte tra vivete colpa mia, nel senso che negli anni non ho giocato così tanto, magari da poter interessare gli allenatori. E a prescindere da questo penso che in quei ruoli la Nazionale sia veramente coperta. Quindi su questo non lo so, anche questa è una cosa che il campo deciderà, però mi sento di dire che sicuramente il centrocampo della Nazionale italiana è in ottime mani. Nel sogno ce l'hai ancora? Non lo so, questa è la mia Nazionale per ora, poi vediamo. Questa era una di quelle frasi fatte. No, 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 io seriamente sono concentrato qua perché, ripeto, negli anni non ho giocato quanto speravo, quindi voglio concentrarmi qua. Ciao Danilo, Daniele Rocca, il tempo. Io ti volevo chiedere della Champions League, l'emozione di tornare a giocare una competizione così importante e anche l'obiettivo, perché l'obiettivo ovviamente in campionato è quello di tornare a essere tra le prime quattro, però l'obiettivo della Lazio in Champions League qual è stato? Avete già parlato, avete già ragionato in funzione anche di quello che sarà il girone, ovviamente al netto di conoscere quali saranno poi le squadre che lo comporranno? Non lo so, non abbiamo parlato di questo, sicuramente quando si gioca quel tipo di competizione contro quelle squadre diciamo le previsioni sono un po' complicate, sicuramente c'è lo stimolo di confrontarci con una realtà differente che abbiamo vissuto gli ultimi anni e che avendo fatto l'Europa League, quando poi vai in Champions ti misuri con altri tipi di realtà e vediamo, siamo curiosi di vedere a che punto siamo, io penso che potremo fare un buon percorso, vediamo, le partite poi si decidono sempre per episodi, sicuramente andremo a affrontare squadre di caratura veramente importante e vediamo insomma come è quello che possiamo fare. L'altra domanda invece è su Ciro Immobile, lui è arrivato qualche giorno in ritardo rispetto a voi, come l'hai visto? Ci sono delle voci intorno al suo futuro? Ti chiedo, Danilo Caldaldi che è uno che insomma dallo spogliatoio della Lazio ci è stato tanto tempo, che conosce molto bene Ciro Immobile, Danilo Caldaldi come ha visto Ciro Immobile? L'ho visto come sempre, sereno, felice, ho visto un Ciro veramente tranquillo, ho letto qualcosa di queste voci ma non so niente sinceramente, neanche mai parlato, quindi non lo so sinceramente, ho visto il solito Ciro, il solito Ciro voglioso, penso è quello che hanno visto tutti in questi due giorni che sta qua, quindi l'ho visto sereno, il nostro capitano lo vedo tranquillo. Ciao Danilo, buonasera, Francesco Pizzarri, adesso siamo noi, Eddy Press, è vero che non si finisce mai di imparare ma a che punto ti senti d'aver assimilato la filosofia di Sarri? Guarda, mi sento a buon punto, nel senso a un buon punto, poi è normale che diciamo in parte a volte capitano cose che neanche provavi, quindi c'è sempre qualcosa da imparare, però mi sento a buon punto, mi confronto col ministro e con i collaboratori su qualsiasi tipo di situazione, quindi spero di fare una buona stagione e di farla insieme a tutta la squadra. Ciao Danilo, Michele Cerrotta, Città Celeste, mi ricollego alla domanda del collega, detto che Sarri più volte ha ribadito come per fare il tuo ruolo sia necessario giocare tante partite e tu ora a questo punto le hai giocate, ti chiedo proprio nell'interpretazione del ruolo se ti senti che sei diventato il tuo ruolo, visto che poi da giovane eri partito giocando più avanti e se, al netto di quella che è stata la partenza di Milinkovic, ti senti anche pronto eventualmente all'occorrenza a fare la mezzala? Sicuramente negli ultimi due anni da quando c'è il mister che ho continuamente giocato lì mi sento più adatto in questo momento a fare quel ruolo, quello che richiede il mister in quel ruolo è difficile, è molto dispendioso, in questo momento però mi sento più in quel ruolo che più avanti sicuramente poi se ci dovesse essere la necessità o comunque il mister ritenga che posso giocare un po' più avanti io non ho assolutamente nessun tipo di problema, ad oggi dico che sicuramente è un ruolo che sento più mio a proposito della Champions vorrei chiederti se c'è una squadra che non vorresti incontrare o che vorresti incontrare in particolar modo e la seconda domanda è, visto che ti abbiamo lasciato un po' ammaccato, come stai? come sta Danilo? Sto bene, intanto rispondo all'ultimo sto bene, ho passato l'ultimo mese del campionato un po' in difficoltà per via di questa botta che ho preso però sto bene, per ora il polpaccio sta andando bene ho fatto una buona, la parte estiva l'ho dedicata principalmente all'allenamento alla cura del polpaccio perché non era ancora in perfetta forma, però sta bene guarda, io dico la verità, una cosa mia, personale, non c'è una squadra in particolare mi piacerebbe andare a giocare con una squadra inglese perché in questi anni che comunque con la Lazio ho giocato in Europa non sono mai riuscito ad andare in Inghilterra a giocare una partita quindi mi piacerebbe molto affrontare una squadra inglese grazie